Scelta Pura Gas è l'offerta di Estra che nasce dall'accordo triennale di Estra Energie con a zero CO2 per compensare con l'acquisto di crediti di CO2 le emissioni di enidride carbonica prodotte dai consumi del metano. Colonine elettriche installate in Toscana e nelle Marche ed ora la nuova app Estra ricarica in partnership con Enermia disponibile per Android e Apple per incrementare i servizi di mobilità elettrica. Online la nuova edizione di Energicamente il progetto di Estra che porta la sostenibilità nelle scuole di tutta Italia. La nuova piattaforma propone contenuti utilizzabili anche per loro obbligatoria di educazione civica. Le buone notizie dello sport è il bando di Estra di 3.000 euro ad associazione a favore delle società sportive che operano per l'inclusione sociale nei territori di Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Toscana e Umbria. Toscana e Umbria.